La macchina che è portata in fondo, però in realtà lì ci fanno i pedoni a piedi della macchina. La macchina che è portata in fondo, però in realtà lì ci fanno i pedoni a piedi della macchina che è portata in fondo, però in realtà lì ci fanno i pedi della